Donne scappate dalla guerra che attraverso la musica diventano portavoci di un messaggio di pace. L'orchestra sinfonica di Kharkiv, diretta dal maestro Fernando Rauci, si è esibita a Trivento, sulle note di Vivaldi e Mozart. Tutte donne che hanno lasciato al fronte i mariti, i fratelli, i padri, gli amici. A loro hanno dedicato il concerto benefico nella suggestiva piazza cattedrale. Sono ragazze bravissime, dedicate al lavoro, nonostante... Io a volte facendo le prove mi chiedevo delle persone, ragazze, signore, bravissime, e mettevo nei loro panni, pensavo hanno una guerra alle spalle. Noi attraverso l'arte cerchiamo di smorzare questi dolori. Sono arrivati in Italia da appena tre mesi, giusto il tempo di imparare un po' con la lingua, ma non sono servite le parole per incantare il pubblico e lasciare un messaggio di fratellanza attraverso il linguaggio universale della musica. Siamo qui perché nel nostro paese c'è guerra, ma siamo molto contenti di eseguire qui concerti per la pace. Suoneremo brani di compositore italiano, Vivaldi, le quattro stagioni, e anche Mozart, Eine Kleine, e anche un concerto, anche Vivaldi, con Maddalena.